Volevo fare un altro video oggi ma il mercato non ci dà chance perché Bitcoin sta facendo numeri importanti e quindi ragazzi bisogna andare a fare il video recap, lo so che apprezzerete di più questo tipo di contenuto anche se quello che stavo registrando, quello che stavo costruendo, stavo scrivendo per la giornata di oggi era un video pazzesco che riguarda l'investimento, che riguarda i portafogli di investimento, dove c'è dentro anche Bitcoin arriva settimana prossima e oggi andiamo a vedere questo maxi rialzo di Bitcoin che cosa sta facendo, si è infilato nella Best Resistance all'interno e ci siamo di nuovo allora due cose sono cambiate dal lunedì, in questa settimana il mercato è stato molto più forte del previsto tra virgoletto, ma noi avevamo parlato perché il dubbio c'era che l'ipotesi più scontata, più semplice, più comune poi il mercato non la facesse perché sempre fa, molto spesso fa così cioè quando le cose sono estremamente semplici, estremamente scontate non le rispetta ragazzi e questa cosa a volte capita ne abbiamo parlato comunque in quel video, vi avevo dato una serie di indicazioni se non che cantare vittoria è già possibile, in realtà no da un certo punto di vista e oggi vi spiego perché da un punto di vista di Bitcoin però poi volevo anche approfondire una serie di aggiornamenti per quanto riguarda le top crypto che non vediamo già da un po', ad esempio Solana che cosa sta facendo la market cap di Bitcoin nei confronti delle altre crypto Ethereum ne abbiamo parlato nel video di mercoledì in maniera estremamente accurata e ancora una volta vi faccio vedere il grafico del rapporto con Bitcoin ancora una volta è peggiorativo per ETH proprio anche in questo balzo vi faccio vedere il grafico eccolo qui ragazzi, il rapporto Bitcoin-ETH di cui abbiamo parlato nel super live di mercoledì e negli ultimi tre giorni rosso, rosso, rosso cioè riduzione di forza relativa e tra le altre cose breakout anche di questo livello di supporto questo implica che la tendenza di ETH se dovesse rompere questo minimo sarebbe di un ciclo nuovamente ribassista a livello trimestrale quindi forza relativa ancora in perdita per quanto riguarda Ethereum quindi ancora una volta da preferire Bitcoin io stesso ho tentato un riaccumulo di ETH poi stoppato in questa zona e sono ritornato ad avere solo Bitcoin ancora una volta purtroppo tenterò di nuovo perché io sono fondamentalmente convinto che poi una volta che questo trend si vada a invertire Ethereum può performare bene ma sono un trend follower ragazzi trend is my friend e quindi io non vado a mettere diciamo i miei investimenti laddove vedo poca forza relativa tutto qui non è una preferenza, non è un tifo eccetera ma insomma ragiono così allora andiamo a ragionare subito su tutte queste cose non so se vi ho detto bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video ve lo dico adesso salto della moneta e Bitcoin sta pompando ma non siamo esenti da rischi allora facili prede di illusioni facili prede di emozioni semplici siamo tutti gli investitori portati a questa cosa ragazzi ma c'è da dire che poi bisogna andare a guardare dei numeri dei grafici allora io non sono negativo ancora su questa questione però nella giornata di ieri ho fatto un mega video nella mia academy ragazzi dove ho spiegato tutto quello che bisognava fare fino a questo momento preciso che abbiamo avuto nella giornata di oggi ho avvisato tutti gli utenti di quello che sarebbe successo in questo caso e soprattutto più che sarebbe successo era come agire se sarebbe successo ecco che sono spiegato male e siamo pronti abbiamo due strade parallele già inserite con il pilota automatico ve lo dico in maniera molto chiara perché la situazione attuale è un po' rischiosa nonostante abbiamo fatto questo mega pump lo so è strano dirvi questo e io ammetto che sto iniziando a spostarmi nell'ottica appunto della ipotesi della continuazione di questo movimento e quindi poi della definizione finale del concetto dell'annuale di bitcoin di cui parlerò in un altro video noi abbiamo parlato in altre questioni che vi ho fatto vedere anche nel video dell'albing dove abbiamo parlato del possibile app proprio prima dell'albing e poi un down però in sostanza questo spostamento anche mio personale dipende dall'attuale forza del mercato che però da un punto di vista tecnico ancora i segnali veri non li ha dati ragazzi quindi truffone sì o no questo non lo possiamo sapere quello che possiamo sapere in questo momento è che il mercato sta facendo un doppio massimo allora questa è l'unica informazione che oggettivamente abbiamo a disposizione è anche un'informazione che ci dà anche un'importante informazione se questo attacco al livello di resistenza del bitcoin che è la best resistance cioè questa zona che vedete come stenta a far passare il mercato tutta questa zona qui ragazzi vedete come stenta però è normale che oggi ci siamo arrivati è normale che ci siamo fermati domani e dopo domani che conta che però purtroppo sono weekend quindi sabato e domenica ci potremo spostare a lunedì sì è vero ma avremo anche la difficoltà nel comprendere se domani o dopodomani fa un breakout di questo livello è validato o non è validato essendo il weekend essendo chiusa i mercati tradizionali essendo ora gli istituzionali sul mercato cripto più pesanti rispetto a prima e quindi avendo anche un impatto allora dovremmo poi ragionare un po' su tutte queste cose però in linea di massima se lo fa magari stanotte ok sarebbe meglio comunque qui abbiamo il livello più elevato ma soprattutto poi c'è lasciato finale con il touch dei 49 mila dollari quindi sopra i 49 mila dollari sopra i 49 mila dollari questo movimento non può appartenere al movimento precedente per cui qui è iniziato una nuova struttura ciclica la conferma in maniera evidente che sia una struttura non più appartenente alla precedente quindi tendenzialmente poi chiarisce una sedia di dubbi di cui parleremo in un altro video ma soprattutto dà delle indicazioni oggettive ma fin tanto che non lo fa questo è un doppio massimo vi faccio vedere anche un'altra cosetta più indietro diciamo nel tempo allora qui questione legata al minente passato aprile a luglio 2023 allora ragazzi stessa identica cosa non ce la fa tra le altre cose qui ci fu anche il fake break che non ce la fa e poi down vi faccio vedere anche un'altra cosa qui parliamo di trend rialzisti quindi comunque sempre in trend di lungo periodo a livello rialzista qui parliamo invece della struttura non ce la fa e poi down allora questo discorso è molto comune per bitcoin ragazzi anche qui per esempio guardate cosa fa e c'è un massimo doppio massimo non ce la fa inversione e anche la questione legata per esempio ad altri fenomeni altre fasi di momento per esempio questa invece vedete fu un momento in cui il mercato riuscì a superare il doppio massimo vi faccio vedere qui era stato fatto il doppio massimo qui non ce l'ha fatto ha provato la discesa però qui fa il breakout vedete breakout lo conferma perché sta tanto tempo pullback e poi nuova struttura però era giusto per farvi comprendere come l'importanza di questo momento è abbastanza chiave anche qui vedete doppio massimo sporco e poi inversione di tendenza ancora una volta se andiamo indietro nel tempo anche qui una specie di doppio massimo questo è un gatekeeper a dire la verità vediamolo per esempio in se c'è anche nelle super bolle di bitcoin qui non ne vedo diciamo alcuni in maniera evidente insomma perché qui fu un trend veramente iper rialzista qui c'è una specie di doppio massimo breccato che però vedete non super ha lasciato ma parlavamo del 2015 però giusto per farvi capire guarda qui c'è lasciato qui c'è il livello di resistenza qui si interviene non ce la fa praticamente a superare lasciato e poi ritorna down però qui abbiamo anche estremamente rumore sul mercato perché sostanzialmente eravamo veramente molto piccoli quindi questi dati sono più valevoli se guardiamo quelli nell'immediato e breve periodo quindi qui siamo nella stessa struttura quindi mercato forte ma solo i prossimi giorni ci daranno un'informazione molto rilevante sulla potenza di questo movimento l'ho specificato più volte bisognava stare long perché non c'era un'alternativa e rischiare ovviamente che questo movimento sia farlocco non c'è niente che si possa fare in questo momento perché c'erano due ipotesi possibili con la ciclica e non avevamo altra possibilità se non tentare entrambe le strade quindi due piedi in una scarpa però sostanzialmente è una cosa che dobbiamo andare a valutare valutatela anche voi perché lunedì noi ci rivedremo in un video con un'alternativa a un mercato che ci avrà dato le risposte sabato e domenica oppure sarà fermo e io lo spero fino a sabato e domenica e poi lunedì magari ci dare risposte sarebbe meglio perché il breakout fatto sabato e domenica puzzerebbe ma tantissimo come un pesce acquistato una settimana prima capite tenuto in congelare in frigo terribile allora io preferirei non vederlo perché spiazzerebbe tanti sarebbe difficile da gestire e soprattutto andrebbe validato poi lunedì e non è detto che questa cosa avvenga e quindi sarebbe veramente complesso comunque interessante questa fase andiamo a vedere invece le altre criptovalute che vi avevo promesso intanto partiamo con Solana e poi vediamo subito anche la market cap di bitcoin allora Solana ragazzi Solana in attesa della sua chiusura del ciclo annuale e ragazzi qui il gioco si fa duro perché l'annuale dovrebbe andare in chiusura intorno ad aprile ed è proprio anche questa la questione che mi fa un po' drizzare i capelli su questo doppio massimo di bitcoin perché alcune altcoin dovrebbero teoricamente andare a chiudere un ciclo verso aprile e questo significherebbe anche non avere tanta forza in questa fase però sapete com'è la situazione noi possiamo prevedere il futuro quindi bisogna seguire il trend ma per esempio vi faccio vedere la questione di Solana se Solana non supera questo livello nel breve periodo parliamo sempre ragazzi di massimo questo segnale è un segnale di inversione perché il trend a diciamo super bull che era avvenuto qui è stato invertito nel breve periodo qui questo tentativo di riprendere i massimi se non viene rispettato e quindi se non ce la fa a fare questo per intenderci significa che fallisce il tentativo di prendere i massimi e poi tenterà di riscendere a testare questo minimo qualora invertisse questo minimo sarebbe un'inversione di trend da manuale in termini statistici quindi poi qui andrebbe a chiudere il ciclo che vi sto dicendo perciò è molto importante questa fase qui questo punto qui perché se non ce la fa a superare questa zona anche Solana segnerebbe una potente inversione di trend di breve periodo che però avrebbe la possibilità anche di avere conseguenze importanti in termini di ribasso percentuale non che cambi la questione di lungo periodo in questo caso medio-lungo perché questo trend è insomma bello ampio bello rialzista quindi non è che cambi però se fa una cosa del genere un evento del genere non ce la fa a superare quei massimi e va giù a chiudere questa struttura ciclica che sarebbe la natura classica della M che disegnano i cicli dei mercati sostanzialmente andrebbe a configurare una zona ribassista da questo punto intorno al 50% che non è ovviamente la fine del mondo per chi magari chi come voi qualcuno di voi l'avrà presa a prezzi molto bassi magari ai 20 dollari eccetera non è la fine del mondo però magari insomma ecco essere avvisati su questa possibilità vi dà la possibilità di mettere in dubbio magari alcune operazioni che potrete state magari cercando di fare o altre cose soprattutto sapere quello che può succedere anche agli holder di Solana e magari non batter ciglio non avere tanti dubbi tanti problemi se assistete a una cosa del genere si sta andando a chiudere un ciclo annuale e quindi questo è giusto per spiegarlo io ancora non ho Solana nel mio portafoglio tendenzialmente la vorrei prendere dopo aprile appunto per dopo la chiusura di questo ciclo annuale allora qui è stato fatto un ciclo da 134 giorni tendenzialmente anche questo un po' corto per essere un ciclo semestrale mancherebbe un ciclo di natura trimestrale e questo significerebbe appunto che questo ciclo qui dovrebbe essere teoricamente ribassista io vi dico la struttura e la teoria dell'analisi ciclica ragazzi poi se da qui queste cose succedono meno non è una previsione del futuro è che statisticamente a livello di probabilità e magari c'è una probabilità più ampia che questa cosa potrebbe avvenire ok ecco perché metto in dubbio un po' questo rialzo benché vi ripeto io non ho Solano in questo momento però ho bitcoin long in posizione rialzista ancora tutte le posizioni sono aperte e seguiranno quel trend ma vi dico anche questo ho già gli stop inseriti e i trading stop inseriti già avvisato a tutta l'academy di questa cosa ragazzi è perché perché è pericoloso il movimento come vi sto dicendo tutto qui quindi preferisco a quel punto essere buttato fuori e poi in caso rientrare accusando un po' il differenziale di prezzo perché questo è un momento particolare e tanti segnali tecnici non sono così floridi come sembra invece da questi rialzi perciò il dubbio mi è venuto io vi espongo qui quelli che sono i miei dubbi ripeto non sono così finanziari noi ne prevediamo il futuro ragazzi non mi mandate quei soliti messaggi ah avevi idee non sto dicendo niente sto dicendo le cose come stanno vuoi operare un discorso diverso bisogna stare sempre con due piedi in una scarpa e avere le potenzialità a livello tecnico strategico di poter fare strategie di trading e di investimento profittevoli quello non dipende dal fatto che prevediamo il futuro però la capacità di fare analisi ragazzi quella ce l'abbiamo e soprattutto ci dà la possibilità di avere queste informazioni che vi sto dicendo attenzionate quindi di questo movimento che per quanto sembra bellissimo ha bisogno della prossima settimana e del superamento di alcuni dati su bitcoin per essere validato su solana invece vi sto dicendo questo livello di pricing tenetelo a mente cento trenta cento venti tre cento venticinque direi io almeno andiamo a vedere anche un altro un altro dato che volevo farvi vedere cioè la dominanza di bitcoin che ha ripreso estremamente fiato dopo i i ribassi e vi faccio comprendere una questione ragazzi la dominanza di bitcoin e allora noi qui allora lo so che questa è una dominanza particolare che magari non è oddio ho buttato a terra un po' di di matite allora la dominanza non è esattamente esente da errori così come la stiamo considerando perché all'interno ci sono le stable coin secondo me non dovrebbero esserci però da un punto di vista tecnico voglio utilizzare ancora un grafico classico perché poi quello senza le stable coin ce lo abbiamo insomma inserito qui eccetera ci sono l'abbiamo già creati quei grafici però io al momento voglio parlarvi del classico di quello sporco tra virgolette banale che però ci accompagna da una vita ok da una vita e quindi ha anche tanto storico tanta significatività e quindi va validato anche insomma in questo modo su bitcoin ragazzi in questo punto a livello di market cap è iniziata teoricamente teoricamente una nuova un nuovo ciclo annuale però anche qui anche qui abbiamo necessità di avere un atteggiamento che sembrerebbe insomma stia per avere bitcoin cioè il superamento di questo livello della market cap attenzione che questa è un grafico a doppio risvolto 54% ragazzi il 54% se superato da bitcoin in questo caso nelle prossime settimane questo è un grafico settimanale quindi la prossima settimana potrebbe arrivare qui e quindi salire farebbe due cose farebbe due cose primo convaliderebbe questo rialzo indicando che siamo in un'ipotesi di cui parleremo approfonditamente solo quando si andrà a verificare ma ve l'ho anche più volte accennata se mi state seguendo da un po' cioè l'ipotesi di un biannuale form maternaria con un ciclo annuale già chiuso precedentemente abbiamo parlato un po' confusionaria non vi voglio un po' tediare con queste cose però confermerebbe anche la la debolezza di eth nei confronti di bitcoin per un bel po' di tempo almeno due o tre mesi e questo ci fa nuovamente portare a riflessione quel grafico di cui vi ho parlato nell'ultima live e sull'idea che avere ethereum in portafoglio al posto di bitcoin in questi mesi non è ancora conveniente questo è il discorso è sbagliato farlo perché non c'è forza relativa del reggine dell'ecritto quindi aspettiamo aspettiamo che avvenga questa cosa allora anche questo grafico ci darà questa conferma se e solo se saliamo sopra 54-55% perché il grafico della dominanza di bitcoin è strettamente correlato ad ethereum ragazzi molto di più che al resto delle criptovalute quindi se anche bitcoin andasse su pompando se questo grafico lo conferma pomperà di più bitcoin e le altre cripto e meno eth questo è il discorso in pratica che si evince quindi converrebbe avere bitcoin come top e converrebbe avere qualche altcoin sporadica che ha le possibilità di performare bene su bitcoin ma non converrebbe avere cosa le altcoin le cripto che sono nella top 10 teoricamente almeno da questo grafico quindi escludendo binance ripple escludendo solana tra virgolette e ovviamente ethereum in molto di più ethereum rispetto a solana e bnb perché ethereum ha un peso del 15 17% se non ricordo quant'è rispetto a bitcoin e quindi è molto più importante cioè per guadagnare dominance bitcoin la deve prendere ad ethereum ragazzi vi ho detto in parole povere e in questo grafico anche un po' ad stable coin però soprattutto ad ethereum ha un impatto decisamente maggiore quindi perché questa cosa possa arrivare qui significa che ethereum deve perdere forza relativa faccio capire se questo grafico continua a salire e arriva qui eth perde un altro 10-15% di forza relativa contro bitcoin ma anche di più 20% non c'è storia e quindi capite bene il senso di questo video vi faccio vedere anche un'altra criptovaluta chiudiamo il video quando guardiamo le cripto i video vengono sempre un po' lunghetti ragazzi ed è CRO ragazzi che insomma criptovaluta da molti diciamo apprezzata ma che non performa veramente da tantissimo tempo allora CRO CRO cripto.com ragazzi la precedente diciamo regina del marketing delle cripto della scorsa Burran adesso un po' caduta in diciamo depressione post per market chiamiamola così la questione è molto semplice il 14 agosto 2023 è stato chiuso un ciclo biannuale a forma ternaria su cripto.com difficile complesso veramente delicato e da qui è iniziato un nuovo ciclo annuale che teoricamente ha fatto una specie di metà o sta facendo una specie di metà ciclica in questi giorni attenzione a due cose allora qui la struttura di metà dei cicli solitamente è estremamente rumorosa quindi è volatile ma è anche rumorosa però questa cripto ha tendenzialmente la possibilità di potersi riavvicinare ai precedenti massimi in questa zona proprio nei movimenti dei prossimi mesi ora l'unica cosa in cui dobbiamo stare e prestare molta attenzione è essenzialmente questo cioè il ciclo attuale da 60 giorni che si va a concludere i primi di aprile 60-70 giorni questo qui perché questo ciclo strutturalmente un trimestrale potrebbe essere un trimestrale di anomalo di raccordo o ribassista che fa appunto una cosa del genere ma poi si conclude con questa fase ribassista qui per essere mediano cioè quindi in pratica riaccumulazione un ciclo del genere però è interessante perché potrebbe spingere poi nella seconda parte a fare un massimo in questa zona perché l'annuale è iniziato da poco quindi che abbia fatto un massimo in questa zona qui è possibile ma solo se quest'annuale è ribassista e quindi parliamo di un disastro colossale cioè una roba del genere non c'è altra soluzione altrimenti se questo annuale è rialzista il massimo lo dovrà fare entro i prossimi mesi al di sopra di questo livello quindi potrebbe diciamo raccordarsi qui fare una barra di congestione non spingendo tanto e poi fare il massimo qui in questa zona vicino maggio giugno luglio insomma l'estate del 2024 interessante questa cosa per chi di voi lo avesse io ho ancora qualche pezzo di questa cripto ma è talmente poco perché sono i vecchi CRO che detenevamo in staking per la carta or sono tempi e me li avevano dati dal cambio di MCO chi di voi se la ricorda la monaco card e poi passata a CRO non ne ho quindi in quantità cioè sono 4 spicci perciò non la acquisterò perché non mi piacciono in questo momento gli exchange token a prescindere però volevo avvisarvi so che molti amano questa cripto valuta e quindi darvi un po' il punto di vista generale va bene monitoriamo bitcoin che da sempre è il leader di questo mercato e da sempre da semaforo verde semaforo rossa a questo mercato non tifate per una cripto specifica guardate i grafici non vi appossate andando a dire ah ma ethereum 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 è la mia preferita della prossima burran ma fino a quando non si mette in moto la macchina io non ci vado e mi dispiace dirlo ma è così ragazzi preferisco stare sul re anche perché se performa meglio è sempre il re quindi ragioniamo su questo poi monitoriamo strettamente i grafici quando ci sarà l'inversione avremo tempo di tornare sul carro ma il livello di bitcoin ve l'ho detto e vi ho detto anche il pericolo di questa fase due giorni al fine settimana lunedì ci riaggiorniamo vedremo un po' che è successo ciao a tutti